L'intervento di restauro della facciata è già avvenuto. Il monitoraggio della torre è iniziato 17 anni fa, continua e il restauro dovrà avvenire in futuro. Invece il restauro dell'Infeo, di cui vi parlo adesso, è in programma nei prossimi due anni. Questo perché? Perché siamo stati assegnatari di un finanziamento del bando Giardini Storici del PNRR e di questo fatto siamo particolarmente orgogliosi e grati all'Italia e all'Europa. Ma perché un giardino come quello di Palazzo La Marmora è stato ritenuto meritorio di questo contributo pubblico? I motivi sono molteplici, ma io ritengo che uno lo sia in modo particolare. Tra il Cinquecento e il Seicento, Sebastiano Ferrero, i suoi figli e i suoi nipoti hanno iniziato e condotto in modo progressivo un intervento di tipo paesaggistico che ha portato a Biella in modo molto forte un'impronta rinascimentale, quella della Milano dei primi vent'anni sotto il dominio francese, ricordiamoci che Sebastiano Ferrero fu il tesoriere di due re di Francia in quei vent'anni, Francesco I e Luigi XII. Il Ninfeo si configura insieme alle rampe e alla torre come un apparato paesaggistico rivolto più alla città è come un dono alla città, se inoltre pensiamo che faceva parte di questo apparato paesaggistico l'intervisibilità tra questi tre elementi sulla collina del piazzo e la chiesa di San Sebastiano, anch'essa voluta e finanziata da Sebastiano Ferrero. Quindi restaurare questo complesso vuol dire ridare visibilità a una fase della storia biellese in gran parte dimenticata e mettere in valore una componente sottovalutata della struttura paesaggistica della città di Biella. Sarà Andrea Bassoli a esporre gli aspetti strutturali dell'intervento. Parlando del Ninfeo, una caratteristica di questa struttura innanzitutto è quella di un'elaborazione architettonica complessa che sposa appieno la parte strutturale, quindi la struttura stessa del Ninfeo è parte architettonica. Il percorso che accompagna nelle gradonate del giardino sono architettura e al tempo stesso struttura per cui un intervento di consolidamento e di restauro devono necessariamente essere accompagnati ed essere paralleli tra di loro. La struttura, ed è uno dei problemi su quale ci si scontra spesso, è oggi un oggetto di conservazione che identifica un periodo storico, che identifica un uso che non è più attuale. Oggi parti di edifici storici come il Palazzo La Marmara, come la Torre, come il Ninfeo non hanno più una funzione strettamente legata all'utilizzo del Palazzo, hanno una funzione però di bene culturale che identifica un periodo storico, che identifica una cultura. Il Ninfeo, costituito da tre archi, costituito da un'aggiunta probabilmente di alcune porzioni, quindi un ampliamento e poi uno svuotamento di alcune murature per creare maggiore aperture, quindi un'evoluzione storica che ha portato alla modifica sia architettonica sia strutturale, oggi si presenta con una serie di parti sconnesse, non più unitarie. L'intervento proposto vuole proprio andare a ricostituire l'unitarietà strutturale, quindi andare a riprendere le parti che hanno una funzione o che potrebbero avere una funzione ormai persa dal punto di vista strutturale e le vogliono andare a ripristinare. L'intervento che è stato fatto presenta pochi elementi metallici che vanno a sfruttare quei punti dove abbiamo delle concentrazioni di carico, quindi si cerca di analizzare, e questo a livello generale, l'edificio o il monumento per andare a capire quali siano i punti nevralgici dove andare a dare una mano e andare a prevenire quello che potrebbe essere un accumulo di sollecitazioni. Quindi alla base di un arco o una spinta, questa spinta deve essere contrastata. Questo contrasto può avvenire in vari modi. La scelta progettuale poi è quella di trovare un modo che sia adeguato per non alterare l'aspetto del monumento e garantire la buona conservazione. Quindi al tempo stesso è una progettazione volta a rispettare l'edificio e a preservarlo nel tempo. Il restauro e consolidamento del ninfeo e del giardino di Palazzo La Marmora potrebbe restituire una lettura di quello che è il palazzo, di quella che è una fase storica del palazzo. Una lettura anche dal punto di vista della visibilità, quindi il consolidamento e il restauro della parte a balza, della parte dei terrazzamenti, oggi non più riconoscibile per l'ampia vegetazione che va a ricoprire le murature e va a falsare quelle che sono le scansioni delle rampe e dei percorsi. Quindi si rende necessario il restauro e il consolidamento di pari passo proprio per andare a restituire la lettura dei giardini, restituire il percorso, restituire questa architettura paesaggista importante creata dal ninfeo e dalle rampe dei giardini. Io mi sono occupato da molti anni e negli ultimi 15 anni in maniera molto più intensa del tema della manutenzione preventiva e programmata sugli edifici storici e sui beni culturali. La necessità di attivare questo tipo di percorso che è concettuale ma anche metodologico nasce dal fatto che il nostro paese, l'Italia, è ricchissimo di beni culturali e non ci saranno mai le risorse per restaurarlo tutto. Quindi bisogna cambiare paradigma, bisogna prevenire le condizioni di degrado, bisogna fare quindi un'attività di tipo preventivo, attività di tipo preventivo che si attuano con interventi semplici ma continui nel tempo, semplici dal punto di vista tecnologico, cioè che tutti, tutti diciamo sì, che gli artigiani qualificati sanno ben fare e siccome lo sappiamo fare queste cose, dobbiamo farle, bisogna, come dire, attivare delle scelte che sono di carattere politico da un certo punto di vista e strategico dall'altro, perché queste attività vengano fatte con continuità. ed è la sola possibilità di conservare al meglio il nostro patrimonio, che appunto è, proprio perché è sterminato, richiede ingentissime risorse. Noi abbiamo, al Politecnico e anche fuori del Politecnico, abbiamo potuto documentare che la manutenzione preventiva programmata richiede una visione molto lunga nel tempo, che solo i proprietari di demore storiche possono avere. La manutenzione preventiva programmata, se attuata sul lungo periodo, consente di risparmiare risorse significative, che noi abbiamo valutato tra il 60% e l'80% all'anno rispetto al costo dell'intero restauro. In questo caso la presenza e la concordia e il buon coordinamento tra la proprietà e tutti gli aspetti tecnici dell'intervento è fondamentale in tutti i processi di gestione e di contenimento dei rischi che riguardano gli edifici esistenti. Le cronache degli ultimi anni in Europa rivelano come il cambiamento climatico stia minacciando sempre più la vita sociale, il patrimonio edilizio normale, le strade e quindi anche in modo particolare il patrimonio monumentale privato. Affrontare il tema della valutazione del rischio e consolidare e diffondere i principi fondamentali legati a certificare il rischio, individuarlo e a prevenirlo sono quindi sempre più importanti in tutti i contesti ma in modo particolare per quanto riguarda i beni culturali per la loro delicatezza. Questa consapevolezza è particolarmente forte nel mondo delle associazioni di more storiche perché la nostra missione non è quella di conservare in sé ma l'obiettivo è di conservare per trasmettere per conservare oggi e trasmettere al futuro c'è una forte intenzione di innovazione e quindi ci avvarremo come associazioni di more storiche il più possibile degli strumenti che permettono di portare a termine nel modo migliore questo tipo di metodologia. Certo, gli eventi naturali a volte ci sorprendono e ci lasciano senza parole proprio in queste settimane, il 12 luglio scorso un fulmine ha abbattuto un cedro alto 40 metri di 200 anni nel nostro giardino non c'è valutazione del rischio che tenga in questo caso si va fin dove si può. Grazie a tutti.